18.03.2019 stella di Benedetto Alessandro Casillo ad Amici di Maria De Filippi si infittisce il caso di Alessandro Casillo Il cantante, assente alla registrazione della puntata trasmessa sabato 16 marzo, potrebbe essersi ritirato volontariamente da Amici 2019. 19.Il giovane era in lizza per l'ultima maglia disponibile per il serale che partirà sabato 30 marzo ma, a quanto pare, le critiche ricevute e i numerosi scontri con Rudy Zerbi, potrebbero averlo spinto a lasciare di sua spontanea volontà la scuola di Maria De Filippi Il giovane, infatti, secondo una serie di segnalazioni dei fans sui social e riportate dal portale BC sarebbe stato avvistato in una discoteca di Milano in compagnia di alcuni amici Un indizio che confermerebbe l'addio di Casillo alla scuola di Amici 18 De Calitri momento che, i ragazzi vivono a Roma e non possono lasciare il residence in cui risiedono dopo una determinata ora Ieri Alessandro Casillo era al The Beach, discoteca di Milano, la mia amica ha urlato, vogliamo il serale, e l'amico di Alessandro ci ha risposto che si è ritirato, avrebbe raccontato una fan dopo aver visto Casillo nel locale notturno come si legge su il giornale Alessandro Casillo, ecco perché, potrebbe aver lasciato Amici 18 scomparso dal sito dedicato ad Amici 18 e non citato durante la puntata del 16 marzo Alessandro Casillo è diventato un caso per il pubblico del talent show di Canale 5 che avrebbe gradito maggior chiarezza e spera di saperne di più nel day time in onda oggi Tuttavia, il portale Bici fa riportato la segnalazione di una fan presente alla registrazione della puntata del 16 marzo, secondo la ragazza, in puntata ci sarebbe stato il divieto di parlare di Alessandro Casillo al punto che, e gli altri ragazzi, alle loro domande su cosa fosse accaduto al cantante, sarebbero apparsi in evidente difficoltà Inoltre, sempre Bici ha riportato le parole di Amedeo Venza, ex corteggiatore di uomini e donne molto seguito su Instagram che ha svelato il presunto motivo dell'abbandono del ragazzo È giusto che il pubblico sappia il motivo dell'assenza di Alessandro Casillo Il ragazzo ha lasciato la scuola in preda ad un attacco, una crisi dovute alle forti critiche ricevute durante le prove Quindi Alessandro si è auto-eliminato dal programma, ha scritto Diritti d'autore e riproduzione riservata Grazie a tutti